se ne mi presenti il cavallo pulmine pulmine tu come chiami sabrina e vieni da terni bel viaggio da lontano ma ne vale la pena fai tutte le passeggiate nel raggio di 50 chilometri ma raggio di più si sei la turista equestre per eccellenza per eccellenza ma no equestre basta amatoriale e c'è la mia collega che viene anche la collega come si chiama giuditta il cavallo giorgio giorgio viene da san terenziano per caso ah beh lo conosco che un anno mi ha portato in passeggiata anche a me si si ciao giorgio anche tu vieni da terni cività castellana ma che rovina tutto sello Abbiamo qui un operatore ecologico che sta raccogliendo le bottiglie di plastica dopo della colazione. Fabio come si comporta il cavallo? Vuole che lo fa oppure? Eh vorrebbe che lo fa ma tocca andare in passeggiata. Quindi lo tieni alle retini, lo freni in attimo. Eh però due o tre volte l'ho lanciato. Due o tre volte lo lasci libero? L'ho lasciato libero, vuole fare quello che gli piaceva fare. Che razza è il cavallo questo? E' un mare in mano migliorato con buono sangue inglese. Vabbè. Allora, mettiamo. Ciao, Ricky. Ciao. Grazie a tutti.